Il 22enne è stato bloccato dal personale della farmacia immediatamente sul posto è giunta la volante della polizia di stato e contemporaneamente i genitori e fratello del ragazzo i familiari una volta entrati hanno aggredito i poliziotti sul posto sono quindi giunte altre battuglie in una scena quasi da film il giovane è stato arrestato mentre i familiari sono stati accompagnati in questura in stato di fermo per l'identificazione e per valutare come procedere a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.